Sembra essere ufficialmente rientrata la crisi di una delle coppie più amate del Grande Fratello, i due si sono mostrati di nuovo insieme I fan continuano a seguire con interesse le vicende dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, terminata il 25 marzo In particolare, i telespettatori sono concentrati sulle coppie nate all'interno del programma, per capire come si stanno evolvendo i rapporti nati sotto le telecamere Molti rapporti sono ufficialmente finiti, come quello tra Anita e Alessio, mentre altri continuano a gonfie vele, come quello tra Letizia e Paolo All'inizio dell'estate un'altra coppia sembrava essere vicina alla rottura, ma gli esperti social hanno rivelato che la crisi fosse ufficialmente rientrata Parliamo di quella formata da Greta Rossetti e Sergio Dottavi I due infatti, si sono mostrati di nuovo insieme. Di seguito, scopriamo maggiori indiscrezioni Greta e Sergio insieme a Letto, il video spiazza tutti.La coppia formata da Greta Rossetti e Sergio Dottavi continua a far parlare di sé I due hanno iniziato a frequentarsi nella casa del Grande Fratello, dopo un corteggiamento serrato da parte dell'uomo Al termini dell'esperienza, hanno condiviso molti attimi della loro quotidianità, mostrando ai loro fan che tutto stesse procedendo a gonfie vele A inizio giugno tuttavia, l'uomo aveva annunciato la rottura con la ragazza, facendo intendere che potesse centrare un tradimento Giorni dopo la rottura, gli esperti social hanno condiviso diverse segnalazioni che vedevano i due ex geffini di nuovo insieme La giovane coppia è stata più volte paparazzata a cena fuori o a passeggio in città Tuttavia, nessuno dei due si era espresso al riguardo, preferendo mantenere riservo sulla situazione L'ultimo aggiornamento social però non lascia spazio a dubbi Greta ha infatti pubblicato un video che la ritrae insieme a Letto con Sergio, mentre l'uomo mangia del gelato Tra risate e battute, i due sembrano aver ritrovato quella complicità nata sotto le telecamere del grande fratello Con il video pubblicato, la donna ha voluto confermare le indiscrezioni che già circolavano da mesi, ammettendo dunque di essere tornata ufficialmente insieme con l'ex coinquilino I fan del GF ricorderanno che Greta era entrata come fidanzata di Mirko Brunetti, ma i due avevano deciso sin da subito di interrompere la loro frequentazione Mirko aveva infatti riallacciato i rapporti con l'ex Perla, con la quale è tuttora fidanzato Greta invece inizialmente aveva esposto le sue titubanze nel lanciarsi in una nuova frequentazione Tuttavia, il corteggiamento di Sergio ha avuto il suo lieto a fine e tuttora la coppia sembra essere felice e complice